In vista della prossima stagione estiva, Penne punta molto sul turismo culturale da affiancare a quello naturalistico. Proprio per questo l'amministrazione comunale in questi giorni sta mettendo in campo opere per il rilancio di tutto il sistema museale. Infatti saranno diversi gli eventi messi in cantiere per attrarre visitatori e turisti con l'uscita dall'emergenza pandemica. Nuove iniziative utili a promuovere i due musei cittadini sono stati concertati anche con i funzionari della sovrintendenza archeologica di Chieti in visita a Penne proprio nei giorni scorsi. Le iniziative saranno coordinate con la Fondazione Musap e i volontari dell'Associazione Pinna Vestinorum. Abbiamo messo in cantiere alcune iniziative che in collaborazione con la Fondazione Musap e l'Associazione Pinna Vestinorum vogliamo realizzare nelle prossime settimane proprio per attrarre turisti e visitatori. Abbiamo un patrimonio museale di inestimabile valore e con la visita dell'archeologa, della sovrintendenza oggi abbiamo effettivamente avviato un percorso che porterà a promuovere tutti i nostri musei in particolare quello archeologico attraverso anche dei nuovi reperti che sono tornati alla luce. Quindi l'amministrazione comunale sta lavorando a tutto tondo per rilanciare il nostro sistema museale. L'amministrazione comunale attraverso l'assessore alla cultura è al lavoro per creare un collegamento con la riserva regionale Lago di Penne e il centro storico dove sono presenti i presidi storici della città al fine di incrementare l'offerta turistica sul territorio comunale.